Il sindaco della città, il senatore Avvocato Mezzopianco, nome della finta municipale, insieme al comandatore Mai Massimo Boniere della festa di San Sagra e alla signora Presidente del Consiglio Comunale Francesca Racini, ho il vero piacere di dare il benvenuto a te, Luca, al Maggiore Barmitano e ai colleghi Karen e Fiodor, che insieme a Luca hanno partecipato a questa importante missione nello spazio. In occasione della festa di Sant'Agata di quest'anno il sindaco Mezzopianco, insieme al cerimoniere, hanno ritenuto opportuno, in sintonia con il volere dei cittadini catanesi conferire il più importante premio, il più importante riconoscimento della Candelora d'Oro a un personaggio per noi importante che è Luca, il primo astronauta italiano che ha svolto attività extraveicolari durante una missione spaziale, italiano, siciliano e catanesi di adozione. Quindi a maggior ragione per noi è importante conferire a te Luca questo importante premio che idealmente ti è stato dato in occasione dell'inizio delle festività pagative. Tu eri, non materato a Houston, però eri presente non soltanto grazie alle nuove tecnologie ma grazie alla presenza dei tuoi genitori che credo ti abbiano testimoniato il grande amore, la grande passione che il popolo catanese ha voluto manifestare in occasione della festa di Sant'Anna. Io vorrei ricordare le parole che il sindaco Mezzopianco volle dire in occasione della consegna a te e coi genitori di questo importante riconoscimento. Finastro Luca come sei conosciuto nel mondo di Twitter troviamo tutte le doti dei siciliani migliori, a cominciare dal gusto di superare sempre nuove sfide e di saper guardare al futuro con ottimismo, dimostrando di saper rimanere profondamente siciliano non soltanto in altri paesi del mondo ma persino nello spazio. Le sue immagini fotografiche hanno posto all'attenzione del mondo la bellezza della Sicilia e dell'Etna. Ricordo anche la grande emozione del colonnello Vincenzo Sicuso che è il comandante del 41esimo stormo della base militare di Sigonella. Questa è anche l'occasione caro Vincenzo per ricordare quanto sono forti i legami tra l'amministrazione comunale e la grande famiglia dell'aeronautica militare. Innanzitutto sono onorato di essere qui oggi, sebbene sia nato da Pernocchi, la cittadina che mi ha conto dove sono nato, ne ho sempre ripestuto in Catania, ho dato tutti gli studi del Catania, per cui mi sono sempre sentito da essere qui oggi in questa sala meravigliosa, circondata dai miei cittadini e questo è il mio cittadino. e abbiamo un'emozione e abbiamo un fortissimo valore, insomma come assicuro sono io ad essere morato di essere qua, non riesce neanche a aver tutto in nulla sul riconoscimento del salutato con la contola d'oro, se si parla sarebbe super. Il messaggio che ho dato ieri si può tradurre in quanto valore. La prima parola è scienza, perché credo che la scienza non abbia bisogno di alcuna giustificazione, qualsiasi cifra investita nella scienza, nella conoscenza è un investimento, perché la scienza è quello che ci rende diversi dagli altri animali, la voglia di conoscere, di comprendere e di comprendere non solo ciò che ci circonda, ma il nostro ruolo immerso in quello che ci circonda. E i ragazzi dell'università sono la base di quella che trovano le scienze. Noi come agenzie spaziali, parlo dell'agenzia spaziale italiana, chiaramente, perché abbiamo trovato un portante di volo, parlo dell'agenzia spaziale europea, di cui faccio parte come corpo astronautica, noi siamo immersi nella scienza, nella scienza che roba tutto, perché in orbita abbiamo seguito durante il incremento oltre 200 esperimenti di tutte le branche della scienza, dalla tecnologia dei marcellani, dalla fisica dei fluidi, passando dalla fisica dei fluidi. La seconda parola che utilizzerei è tecnologia. La tecnologia è una conseguenza della scienza, perché è quello che ci fa che ci fa fare. La tecnologia, che a volte viene un po', viene puntato il dito per dire che ci cambia le vite in peggio, che è soltanto perché noi dobbiamo adattarci ai sviluppi tecnologici. A volte siamo refrattari ai cambiamenti. E' inutile negare che i social media di cui siamo circondati oggi hanno cambiato il stile di vita, ma ci hanno anche aiutato. A un giorno non penseremo neanche più a cosa abbiamo perso, ma penseremo a quello che abbiamo guadagnato. Bene, la tecnologia, nella scienza, nella tecnologia spaziale è la punta massima dell'espressione tecnologica italiana. E vi spiego anche perché. Il 40% del volume abitabile della stazione spaziale internazionale è stato costruito in Italia. Mentre erano in orbita due astronami cargo, che sono giunte in orbita e si sono avvaganciate alla stazione, avevano il modulo pressurizzato costruito in Italia. In quel momento più del 50% del volume abitativo della stazione era italiano. E più c'era un italiano a bordo, che ha catturato uno dell'espressione. Una presenza straordinaria che nessun altro paese del mondo può vantare. Solo in Italia. Quindi, un'espressione straordinaria di tecnologia e di industria aerospaziale, di cui dobbiamo essere orgogliosi, e che purtroppo è poco conosciuto. E questo è in colpa nostra, se ne parliamo abbastanza. La terza parola che ho utilizzato è l'esplorazione. L'esplorazione è forse l'istinto più forte degli uomini. Il genere di Ulisse che ci fa guardare un orizzonte e ci fa desiderare di superare quell'orizzonte alla ricerca del prossimo orizzonte. Non riesco a immaginare un orizzonte più infinito, insuperabile, intrigante e affascinante di quello spaziale. Quindi, credo che quel senso di infinito che noi cerchiamo come uomini sia proprio in quella direzione. L'ultima parola che ho utilizzato era dedicata proprio al pubblico che avevo di fronte a ieri, ma anche oggi. Ed era la parola futuro. Noi, come scienza spaziale, come agenzia, siamo sicuramente benissati al futuro, ma in quel momento pensavo un'altra cosa. Guardavo negli occhi il futuro proprio seduto di fronte a me, gli occhi delle ragazze. I ragazzi di oggi sono il nostro futuro. E come ho scritto alle mie figlie, il futuro è nelle loro mani, ma non appartiene a loro, appartiene a tutti. Quindi sta anche a noi cercare di fare in modo che questo futuro sia il migliore possibile. E si comincia proprio da qui, dal giorno di oggi, domani, non rivolgo al futuro, e si comincia dall'educazione, si comincia dall'esempio, da quello che noi noi puoi fare. E questo è quello che ho detto a tutti. Grazie. A nome della Giunta Municipale e a nome anche del Presidente del Consiglio il piacere di consegnarvi un ricordo della nostra città. Anche a te, Luca, la conosci bene la città, però portala nel mondo e nello spazio. Grazie. Scusate se rubo un altro minuto del vostro tempo. Onde qui fu con voi, con la città. Perché dovete sapere che io ho portato in orbita con me un gallagentro identico a questo. proprio lo stesso che lei ha detto. Ho fatto una foto dalla nostra cupola, sul mondo costruito in Italia, ma ce lo scordiamo. Ed è... Questo lei ha detto che il protagonismo in orbita è più fortunato di me, perché lui sta ancora volando lì, mentre io sono qua a parlare nel cuore. Non che sia. Grazie. Grazie.